Nome? Anna. L'aria. Cognome? Di Mola. Cognome? Da quanto tempo la conosci? Cinque anni. Da quanto tempo la conosci? Cinque anni. La serata più divertente è passata con lei? All'autodromo. La serata più divertente è passata con lei? Mavu. Tre aggettivi per descrivere lei? Solare. Pazza. Ubriacona. Tre aggettivi per descrivere lei? Ubriacona. Pazza. È simpaticissima. Il suo peggior difetto? Che gli scappa la cacca. Il suo peggior difetto? È scorbutica. Chi è la conquistatrice delle due? Io. Chi è la più intelligente? Io. Vero? Il 5 maggio chi l'ha scritto? Alessandro Manzuni. Il 5 maggio chi l'ha scritto? Alessandro Manzuni. La prima guerra mondiale? No, non me la ricordo. L'ha d'altro. Cristoforo Colombo, in che anno ha scoperto l'America? Nel... 1492. Dai! La Divina Commedia, chi l'ha scritta? Dante. Chi ha scritto la passera solitaria? Sì. La passera è morta. Quando vieni a Bariblu, qual è il primo negozio che visiti? Stradivarius. Quando vieni a Bariblu, il primo negozio che visiti? Sara. 5 minuti e arrivo. Chi è la ritardataria delle due? Lei. Lei? Non ho capito. L'iricchinata più grande che avete fatto? Ah. La serata più parte? Essere chiusi fuori casa. Rimane chiusi fuori casa. Perché hai deciso di partecipare a questa intervista? Così. Perché hai deciso di partecipare a questa intervista? Perché ci piace fare queste cose. Che cosa pensi di ottenere con questa intervista? Vincere. Che cosa pensi di ottenere con questa intervista? Non lo so. Non ho idea. Se ti dico Bariblu, a cosa pensi? Allo shopping. Se ti dico Bariblu, a cosa pensi? Divertimento e shopping. Un saluto speciale a Bariblu. Bariblu, sei unica. Mi mostrate un gesto d'affetto? Non ho capito.